Notte della Taranta, quinta edizione, con Serena della Monica e le Ninfe della Tammorra. Sabato 11 agosto 2018, ore 21 e 30, Quadrato Compagna, Schiavonea di Corigliano, Rossano. Balla con noi per una serata indimenticabile. Notte della Taranta, con Serena della Monica e le Ninfe della Tammorra. Sabato 11 agosto 2018, ore 21 e 30, Quadrato Compagna. Organizzazione musica oltre le barriere, by Francesco Verardi. Radio Ufficiale, Radio Calabria.